Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questo è lo stand di YouTube. YouTube oggi è una piattaforma di condivisione di contenuto video, sempre di più utilizzato da parte delle aziende italiane, anche perché YouTube offre diverse soluzioni pubblicitarie proprio per aiutare i brand italiani a posizionare e rafforzare il proprio posizionamento online. YouTube oggi può essere descritto semplicemente con sei brevi concetti. YouTube è share, YouTube è comment, è enjoy, è watch, è play e subscribe, che sono delle caratteristiche innovative che definiscono oggi la piattaforma e che aiutano un'audience sempre più importante in fortissima crescita ad interagire con un contenuto video che è sempre interessante e in fortissima crescita. Grazie a tutti!